Incerti d'amore Cori di bagliadere, ciarlatani, accattoni, mime e buffoni, tutta questa genia è in lutto e si dispera per la morte del musico tigellio. Sido era così generoso. Al contrario, se chi per timore d'essere chiamato prodigo non darebbe a un amico nel bisogno nemmeno ciò che può difenderlo dal freddo o dai morsi della fame. E se chiedessi a quest'altro perché, come uno sciagurato di lapidi per insaziabile golosità il patrimonio del padre e del nonno, facendo debiti per comprare ogni sorta di leccornie, ti risponderebbe che non vuole essere considerato come uno spilorcio d'animo gretto. C'è chi lo loda e chi lo critica. Ufidio, per esempio, con tutta la ricchezza di terreni e di capitali investiti a interesse che ha, teme la nomea di scioperato e scialacquatore. Così decurta i prestiti di un tasso cinque volte superiore all'ecito. E quanto più uno ha l'acqua alla gola, tanto più accanito l'assilla. Ed ha la caccia persino a firme di giovinetti, che indossata da poco la toga virile, sono ancora soggetti a un padre arcinio. Io, benedetto, esclamerà chi ascolta, almeno spenderà per sé in ragione del suo guadagno. Lui sta interesti a credere quanto poco bene si voglia. E certo il padre, che nella commedia di Terenzio si obbliga a vivere in miseria per avere scacciato suo figlio, non si tormenta più di lui. Se ora uno chiedesse «a cosa mira questo?» Ecco, gli stolti, per evitare un difetto, incorrono nel suo contrario. Maltino passeggia con la tunica a strascico, ma Vecchi oscenamente la porta all'inguine. Con eleganza, ruffiglio lezza di profumi, gargonio di caprone. Non c'è misura. Vecchi non vorrebbe toccare donna, se una balza cucita a fondo veste non le copre i talloni. E chi, al contrario, se non quella che si offre in un bordello puzzolente. Mentre un tale, persona conosciuta, usciva da un bordello. «Onorato a te», sentenziò in modo sublime Catone, «quando occupa la lussuria gonfia le vene, è qui che devono calare i giovani e non fottere le mogli degli altri. Non vorrei per me questa lode», dice Cupiennio, «che ha un debole per le baldracche vestite di bianco. Ma metto conto che ascoltiate, voi che non augurate successo agli adulteri, come incappino in guai per ogni verso, da che dolore sono avvelenati i loro spassi e come fra continui rischi e disagi raramente ne godano. Questo dovette a capofitto gettarsi dal tetto, quello fu flagellato a morte, questo fuggendo finì nelle grinfie dei banditi, quello in cambio della vita sborsò a quattrini, quest'altro poi fu inculato dai servi, e a qualcuno infine è successo che per colpa della loro lascivia gli troncassero a rasoiate, coglioni e cazzo. E tutti? Ben fatto! Ma Galba protestava. Quanto è più sicura la merce di seconda scelta che libertina, voglio dire. Per loro è vero, Sallustio fa follie non meno di chi insidia le signore. Se però volesse mostrarsi generoso e galante, fin dove lo consente il patrimonio, il suo buonsenso e nella misura in cui si può essere munifici, regalerebbe solo ciò che basta e non gliene verrebbe alcun danno o disdoro. Solo di questo invece si compiace e di questo si vanta e loda. Io le matrone non le tocco. Proprio come un tempo Marseo, sì, l'amante di origine, che regalò alla Mima fondo e casa paterna per poi dire, con le mogli degli altri, io non avrò mai a che fare. Certo, ma con Mime, con Meretrici, sì, e il tuo buon nome ne scapita più delle sostanze. Forse ti basta e ti avanza di evitare quel personaggio e non ciò che comunque sia in qualche modo ti dannezza. Perdere il tuo buon nome, sperperare le sostanze paterne è in ogni caso un male. Che differenza c'è se attenti alla virtù di una matrona o di un'ancella in toga? Viglio, poveretto, per via di Fausta, abbagliato dall'idea fissa di diventare genero di silla, pagò e strappò il fio oltre misura. Tempestato di pugni e ferito a pugnalate, fu cacciato di casa, mentre dentro restava Longareno. Se in mezzo a tanti guai la coscienza, a nome del cazzo, gli avesse detto, ma che vai cercando? Sono forse io che ti chiedo, quando ribolle la mia rabbia, una baldracca generata da un console illustre e tutta avvolta in una stola? Sai che risponderebbe? Da un padre illustre è nata la ragazza. Ma quanto migliori e come fanno a pugni con questi i consigli che dà Natura, che è così ricca di risorse, se solo tu volessi servirtene con giudizio, senza confondere ciò che devi fuggire con ciò che è da cercare. Avere guai per colpa tua o della sorte? Credi che sia la stessa cosa? Quindi, per non avertene a pentire, smetti di dar la caccia alle matrone, per più da subirne calamità che da cavarne frutti. Non è detto che costei fra un luccicare di perle e smeraldi abbia più morbide le cosce, sebbene ciò sia campo tuo, cerinto, o più dritte le gambe. Anzi, assai spesso, le ammigliori la puttana in toga. Aggiungi poi che questa porta in giro la sua merce senza indorarla, apertamente mette in mostra ciò che ha da vendere, e se ha qualche bellezza non lo stenta, non la sbandiera ai quattroventi, come non cerca di nascondere i difetti. Questo è il costume dei signori quando contrattano cavalli. Li osservano coperti, nel timore che un bell'aspetto, sostenuto come spesso accade da gambe gracili, non si educa il compratore, che a bocca aperta ammira la bellezza della groppa, la testa piccola e il collo slanciato. E hanno ragione, altrimenti si rischia di contemplare i pregi fisici con gli occhi di linceo, ed essere più ciechi, sì, di ipsea, nel guardare i difetti. Che gambe, che braccia! Però è piatta, nasuta, di vita corta e piede lungo. Nella matrona, oltre il viso non puoi vedere altro. Il resto è coperto, se non è cazzia, da una veste che scende ai piedi. Se poi cerchi le parti proibite, cinte come sonda barricate, ed è questo che ti fa perdere la testa, molti sono allora gli ostacoli che ti si pareranno innanzi. Guardi, lettiga, parrucchieri, dame di compagnia, la stola che arriva ai talloni e il mantello che indossa, un'infinità di cose che ti impediscono di vedere l'oggetto naturale. Con l'altra non ci sono ostacoli. Nella veste di cola puoi vedere come fosse nuda, senza alcun rischio che abbia gambe storte o piede malfatto, e con l'occhio puoi misurarla ai fianchi. O forse preferisci che ti tendano insidie e ti strappino il prezzo prima di mostrare la merce. E quello, con monotonia, ripete che il cacciatore insegue, sì, la lepre nella neve alta, ma in tavola non vuol toccarla, e aggiunge, così è il mio amore, sorvola su ciò che è alla portata di tutti, e dà la caccia a ciò che fugge. E con questa musica, credi di toglierti dal cuore le spine, le smanie e gli affanni? Non è forse meglio vedere che limiti pone la tua natura alle passioni? Cosa, se le viene negato, sopporta? Cosa le provoca pena? E separare l'apparenza dalla sostanza? Quando la sete ti brucia la gola, cerchi forse calici d'oro. Quando hai fame, provi forse disgusto per ogni cosa che non sia rombo o pavone? E quando ti si gonfia l'inguine, se hai sotto mano un'ancella o uno schiavetto su cui sfogarti senza indugi? Preferisci forse scoppiare dalla voglia? Io no. Amo i piaceri facili e senza disagi. Più tardi ci vuole altro. Se esce mio marito... Questa filodemona lascia i galli e per sé ne cerca una a buon prezzo, che non esiti a venire quando li inviti. Deve essere piacente e snella, elegante, ma non al punto da voler sembrare più alta o più fresca di quanto ha concesso natura. Quando una donna simile si stende con me fianco a fianco, è per me Ilia e Geria. Le do il nome che più mi piace e non ho da temere, mentre fotto, che dalla campagna torni all'improvviso il marito. La porta si è sfondata e latri il cane, si è squassata da orribili rumore, rintroni in ogni angolo la casa. E pallida come un lenzuolo, la donna balzi giù dal letto. La complice gridi, povera me, terrorizzata, questa per la sorte delle gambe, quella accolta in flagrante della dote. E io? Io per me stesso. Con la tunica al vento, a piedi nudi, mi tocca fuggire per salvare i denari, le chiappe e inoltre la reputazione. Essere colti in flagrante è da sciocchi. Fabio stesso mi darebbe ragione. Grazie a tutti.